Ho sentito il rumore, no ho sentito il rumore di carta che si muoveva Ho sentito della carta che si muoveva quindi probabilmente qualcuno camminava E questo ci fa capire che comunque probabilmente non siamo neanche soli Ok allora è appena successa una cosa epica Black si è accorto dopo, mentre eravamo nella sala cinema Io avevo stoppato la registrazione se no sarebbe stato epico Si è accorto che si era dimenticato Si era dimenticato nella sala proiezioni La cartella Cioè nella sala proiezioni Cioè quasi potrei fare un video qualcuno in real life Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video Siamo su Magic Movie Park E oggi lo esploreremo completamente Il piano in basso cioè l'ultimo Il piano terra Il primo piano, il secondo piano E il tetto È un posto comunque molto grande Adesso entreremo Non so da che sala partiremo Probabilmente dalla sala proiettori E faremo un video in prima persona sia io che Black Non sappiamo quale esce prima Probabilmente quello di Black esce prima E faremo due video separati In prima persona io e in prima persona Black Scusate se stiamo pensando ma ci saranno 30 e bassa gradi Di più di 30 gradi saranno 37 gradi 38 gradi E basta guardatevi il video Ma che schifo E là mi sa che c'è una teletrata Siamo arrivati alla sala proiettori Come vedete qua ci sono tutti i film Questi qua sono i film che prima venivano utilizzati diciamo le cartine per trasmettere i film Mentre adesso vabbè sono tutti in digitale E vabbè qua ci sono tantissimi film Solo che è difficile riconoscere perché comunque sono molto rovinati Quindi è veramente difficile Vabbè sopra la sala proiettori c'è il tetto E più sotto ci sono tutte le sale cinema E i centri commerciali Poi più avanti vi diremo esattamente cos'era questo posto Qua c'è un'altra uscita C'è la porta C'è la porta spaccata Dunque senza torcia qua fidatevi Non si vede niente Andiamo avanti Andiamo avanti Qua ci sono tutti diciamo gli armati Dell'elettricità Sì non c'è più un cazzo di niente Non ci sono più film Abbiamo tolto tutto Sì Vabbè poi ovviamente l'elettricità Luce sono state disattivate Lì ci sono dei bagni Questo è vetro Mucchia Questo è vetro Sono neon quelli Mizze C'è una sedia Una sedia Ma l'avamo visto la L'altra di Sledge Che non è così Sì C'è Ma capito E guarda come faccio qua Che schifo Che schifo Veramente Goz ha detto che questa è la macchina da cucire No vabbè questa qua è la macchina per proiettare film Probabilmente qua passavano tutte Passavano Esatto Passavano le cartucce diciamo Giravano tutte In qualche modo Probabilmente qua c'era qualcosa che le ingrandiva Che sarà stato preso sicuro Poi non lo so come funziona esattamente Trasmetteva il film all'interno della sala cinema È strafigo sto posto Anche se era distrutto Sarebbe stato il più bello Se fossero ancora tutte le cose Però vabbè Ho appena perso Black Goz Ah ok sono di qua Ok si è tutto È tutto un giro Noi siamo arrivati tipo da là E ora ci ritorniamo Siamo passati da qua È tutto un giro Stavo per prendere il tubo Comunque se non vedete la mia faccia È perché questo qua È il video in prima persona Che vi dicevo Nel video di Clash Royale Che facevo il video in prima persona È tutto un giro Perché noi siamo partiti da là E poi siamo venuti qua È tutto un giro sullo stesso Ah sì Sei stato te Sei stato te C'è una porta che si è chiusa Giro su quel che vuoi Era però il rumore mio da là Qua c'è tutto un neon Per terra Ho toccarlo dentro Ma cosa mi ha imparato a scuola Che siete qui dentro Devi andare a scuola in ospedale Perché fa malissimo la pelle È tutto un giro Eh sì è tutto un giro Noi siamo venuti da là E usciamo da là Starebbe bello Ad avere una mappa Magari trovata su internet Se la troviamo Magari la usiamo Però non la so Finché non ci perdiamo Utilizziamo la nostra memoria Ok io ora siamo all'esterno Questa qua è tutta la parte esterna E ora cerchiamo di rientrare E entriamo nella sala cinema C'è tutto il vetro per terra Comunque questo posto Non è che è abbandonato Perché ci viene tantissima gente Perché non è la prima volta Che siamo venuti Tanta Tantissima no Perché comunque Non è la prima volta Che siamo venuti La prima volta sono andati solo Stavo andando a morire Porca vacca E praticamente La prima volta sono venuti Black Gods E altri amici Io ero in vacanza E hanno detto che Con loro c'erano altre persone E hanno fatto il giro con loro Quindi Cioè questo posto è tanto visitato L'altra volta invece Che sono andato anche io Ho notato che ci sono Delle differenze Ci sono alcune cose in più Rispetto ad adesso C'è alcune cose che prima non c'erano Ci sono Magari qualcosa Più rovinato Ok Ok in questo momento Stiamo entrando Nella sala cinema Lascio un bagno a caso Questa è la sala cinema La prima che scopriamo È abbastanza grande Sì Qua è presente Stai spesando il film Manella Comunque qua A quanto pare Vabbè veniva trasmesso Il film Prima eravamo Per capire bene Eravamo lì sopra E vabbè Era la sala Del film prese Adesso invece Siamo scesi E Siamo qua Nella prima Sala cinema Ora esploriamo Guardiamo un po' E vediamo Poi passiamo avanti Ok Massimo Black Ci ha appena fatto Begare in mano Perché Ha detto che Ha visto qualcuno Passare Ha sentito Della carta che secondo me Quindi probabilmente Qualcuno camminava E questo ci fa capire Che comunque Probabilmente Non siamo neanche soli Perché già da prima Avevamo sentito I rumori Quindi c'è abbastanza probabilità Ora siamo Diciamo Alla parte interna Quella Dedicata C'è qualcuno veramente Ma sì C'è qualcuno veramente E di qua Dall'altro lato C'è qualcuno Non lo so Sta passando adesso C'è qualcuno E di là Comunque sì C'è qualcuno veramente C'è qualcuno che esplora C'è qualcuno là Eh Sto gestando Sì Ma comunque Abbiamo toccato qualcuno Qua tutto spaccato Dei vandali E abbiamo trovato i ragazzini Sì comunque C'è qualcuno di là E adesso dovrebbe venire di qua Non lo so Questa qua Questa è più grande però Sì questa qua è molto più grande Ha molto più Il doppio Sì dai Il doppio E comunque sì Prima eravamo comunque Sempre qui sopra Abbiamo fatto tutto il giro Della sala proiettori E Basta per adesso Abbiamo visto gli altri passare Poi non so dove siamo andati Dove siamo andati Non so neanche se verranno con noi Vabbè comunque Qua è tutto spaccato Probabilmente questo era Era un corridoio Disponibile per le persone Per camminare Potrebbe anche crollare Da un momento all'altro Perché sono sopra Qua si vede tutto E rimbobba anche Quindi se c'è qualcuno Tipo mi si intera tantissimo Allora in Torino C'è l'interetto principale C'è proprio quella dove c'è Ho già scritto magico nel parco Poi poi si va in piani sotto C'è il giro commerciale Si sale Ma che cazzo Ma che cazzo C'è Qua si sale per la scala cinema Cos'è? Qua si sale per la scala cinema E poi vabbè Non si può Però noi dopo lo facciamo Si va sul tetto Ok adesso Siamo nella terza sala cinema Che è un po' più piccola Diciamo che La seconda che abbiamo visitato Che pensassi anche Cosa c'è in trale Perché questa è l'ultima scala cinema Dopo si gira Questa qua Cioè penso che quella in mezzo Sia la più grande Poi partono con le più piccole Che comunque Si capisce che sono molto più piccole Hanno tipo metà Degli sgabelli E in teoria Qua ci sono delle porte Quando siamo venuti Stavamo per morire Ci sono delle porte Che non portano nulla Cioè tu apri la porta E cadi giù In teoria questa è una di quelle No Ok Questa qua è una di quelle Dove c'è per Cadi O fai parkour O cadi qua C'è una porta Ti ammazzo Un bucato C'è una porta Da qualche parte E' sicurante No non c'è nessuno Comunque La sera cinema di prima Cioè è tutto collegato Alla fine Capisci più o meno dove sei E quando giri Che inizi A disorientarti Non capisci più dove sei Per un attimo Comunque Si è vabbè È sempre tutto distrutto Non c'è nulla Lasciato in ordine Esatto Ok allora E' appena successa Una cosa epica Black Si è accorto Dopo Mentre eravamo Nella sala cinema Gli avevo stoppato La registrazione Sennò sarebbe stato epico Si è accorto Che Si era dimenticato Si era dimenticato Nella sala proiezioni La cartella Cioè nella sala proiezioni Tieni un attimo Bevo anch'io Come cavolo Non so neanche come abbiamo fatto A non sentire la cartella dietro Io mi preoccuperei subito Ok a caso Ho trovato una scala qua Non so se la vedete Perché è buio Aspetto che c'è una luce E c'è una scala Voglio provare a salire C'è una scala Adesso non vedete niente Io provo a salire Non lo so Ok si riesce Si può Ma è impossibile C'è veramente Una volta su Voglio vedere come cazzo scenderei Non voglio provare Però è figo Ok comunque Abbiamo appena incontrato Altri ragazzi C'è un bordello C'è un sacco di gente L'altra volta siamo venuti Era vuoto Cos'è sta roba Cos'è appena trovato una cosa È una pila della madonna Su un set di pile Sì ma non Prendiamole Sì perché ricarichano quella Abbiamo trovato le pile Per ricaricare quella No funzionano Se non sono state utilizzate Vabbè comunque Adesso questa dovrebbe essere La quarta sala Che visitiamo Doveva essere la quarta sala Non ho scoperto io Aspetta aspetta Intanto lo usiamo per te È cattivo C'è Jerry Scotti Fallo vedere Jerry Scotti Sì è Jerry Scotti Dei giovani Sì No nel bagnere Bagnate maschi Bagnate femmine Qua è tutto tenuto bene Tranne uno spaccato Poi qua entra Ah minchia Massi Mi hai spaventato Tu non puoi capire E ho detto Qua entra luce Invece di te Io non riesco E' tutto distrutto Tutto distrutto Secondo me Siamo Allora Torco Dias Inizia Gozo stava andando a sbattere C'è il sapone E mi lavati E poi di qua Sì c'è il bagno Qua c'è il bagno delle donne Distrutto Ma è più piccolo Il bagno delle donne Sembra più piccolo Di quello dei maschi Queste maschi a caso Perché è tutto così Mi fa venire caga Tutto rotto qua Probabile I barboni che abitano qua Megatio non abita qua Se venite in questo posto Trovate Megatio Inizia Stiamo facendo E mi Mi Non tiro un pugno Che ti lascio svenire Svenire Ti lascio svenire Stato No No Non stai Ora siamo fuori Siamo Dove Diciamo c'è La zona Ha fatto malissimo Il nervo Ha preso il nervo Ho sentito vibrare Questa era la zona commerciale Diciamo Dove iniziava nel cinema Qua si entrava nel cinema Eh sì però Diciamo che era anche commerciale Ma no ma se uno sale sulla porta Cade e rompe il vetro Sì eh Se uno sale sulla porta Fa peso sul vetro Ok questa è la Quarta barra quinta Sala che Visitiamo Non mi ricordo Ma sì questa è la quinta Vabbè casomai ve lo scriviamo sotto Questa roba è in corridoio Ah che culo Questa mi sa che è la più grande La più grande Ma non è la più grande Ma tipo anche È un posto sopra anche Là c'è un'uscita Non lo so Questa qua è un'altra Quinta o sesta Vabbè Oh senti Vi scriviamo sotto che numero di sale è È enorme la più grande questa Non ci siamo venuti noi black No non ci siamo venuti Questo cinema Sì ci siamo venuti noi Eh perché noi Era qua che c'era l'effetto ottico No non era qua No era di qua guarda l'effetto ottico Vabbè no no stiamo qua Ma te dice quando eravamo Che cazzo Ok questa dovrebbe essere Vai Gozenziano Questa dovrebbe essere la Vabbè la settima sala Sala circa Anche questa è grande Da questo lato sono state più grandi le sale E comunque non c'è Ah no si scende da qua Proviamo a scendere Guarda Hanno disegnato Che cacchio è quella roba Infatti come hanno fatto salire l'hub Avrò lanciato qualcosa Dopo ci cosa E allora Proviamo a vedere Scendiamo giù Qua c'è un'uscita E una Delle tante uscite Perché alla fine Tutte le sale hanno un'uscita Dovrebbe essere l'uscita di emergenza Nel caso vabbè ci fossero incendi O cose così Qua è aperto tutto Proviamo a salire Là ci sono i condotti d'aria Poi ci dovrebbe essere la terza la cinema E' chiusa Perché si apre dall'interno Vedi Che vanno verso il fuori le porte Vabbè comunque Questo è l'esterno Questo è l'esterno Stiamo vicino alla strada Più o meno Dai Ho trovato per terra Il volantino Questo qua è proprio Il volantino All'inizio era così Il centro dentro Cioè era molto Tanto meglio rispetto ad adesso Adesso è tutto spaccato Però vabbè Cioè c'è proprio la mappa C'è un Donald per andare Dopo passiamo Oh guarda C'è una scheda madre A caso Poco distrutta Non ci crediamo Dov'è andato Computer Praticamente intero C'è Diciamo Una parte del case C'è Tutti i componenti Del pc Non ce la si più però Neanche la ram L'ho fottuta Se la sono portata a casa Scommetto Guarda qua Qua c'hanno tutti i processori Della m di dentro C'era il processore Della m di dentro Guarda che Guarda qui Lì ci sono un sacco Di questi nuovi Sono sporchi Prendeteli E allora cosa fai Ah questo è nuovo Questo fosse vecchio Qua sono tutti i giornali Ancora chiusi Che ovviamente Dovevamo consegnare E il case questo La parte sopra del case E questo è il case Eh la parte davanti del case Qua ci sono tutti i giornali Che ovviamente Dovevamo consegnare Cacchio Stavo cadendo Guarda che qui io faccio i confini E fuori Fuori I confini faccio Vi dà Eh io siete fatti qua C'hai ragione Qua c'è Oh c'è il menù Il ristorante Bibite Qua c'è Guarda c'è una bibita C'è una bibita Qua c'è proprio Tutte cose del ristorante No Posso spaccare Qui in qualche anno Ha sbattuto la testa Ha sbattuto la testa E lui è già in basso Come fa sbattuto la testa Lo prendiamo Oh ma una birra piccola Costava due euro E del cibo Non ci credo Sono gli spaghetti di pollo Col pollo Non schiacciare Non schiacciare Hai sentito gli spaghetti di vento Non lo so però Oh Qua c'è il pollo Sono lì Questa qua c'è È tutto il condimento Apriamolo fuori Che qua non si vede niente Non so è buono Ah no ma non ci sono più gli spaghetti Ah questi sono No veramente gli spaghetti c'erano E ci sono i condimenti Questo qua tipo pollo È buono Eh sì Eh questo qua la zuppa E la zuppa sa di questo odore Ma se c'è cosa Ha una scadenza Ma è ma va Ma è ovvio Ma è ovvio Questa mi sa che è salsa No non è salsa duro Magari è salsa secca Sì ho fatto a primo aprile No no Ci sto per in Questa è salsa Questo è pollo No ma Secondo me è salsina Salsina col pollo Non lo so Che schifo Che schifo Ok allora Goz appena Mi ha fatto una cazzata Ha fatto andare via Un botto di gente C'è una puzza tremenda Non potete capire Ha preso tipo Era I sapori Ma è dick down Che cazzo Sono i contratti questi 2005 Apparentemente Cosa ha fatto Goz Ha preso Un sacco C'è una puzza tremenda Un sacco di farina E l'ha buttato Sì andiamo di sotto E l'ha buttato Per terra E dopo tipo Tre secondi È venuta una puzza Tremenda Di merda C'è proprio schifo Ma che vetro è Accendo È una forma Eh perché è stato Calpestato da tanti Ora stiamo Scendendo al piano terra Che odore di caffè marcia E dopo andiamo Ma senti Beh questo è meglio però Di più buona Sempre meglio E dopo Andiamo ancora più sotto E in teoria Da questo piano in poi Ci dovrebbero essere tutti I piani del centro commerciale Ah e Sono le bombolette Stavo cadendo Sono le bombolette Bisogna stare attenti qua Ok Questo qua dovrebbe essere Il piano proprio Base Qua c'è Un momento all'altro Potrebbe cadere tutto È tutto aperto qua Eh sì E perché non è ristrutturato Quindi un momento all'altro Potrebbe cadere Anche addosso ad essi C'è un joystick Che mi giochiamo? Sì qua Dice anche C'è qua c'è Qua c'è un pantalone Cosa? Ci sono le mani Dele pantalone Oh c'è lo sconto 8 più 8 Vogliamo coprire i vestiti? Qua c'è una cosa per te Il plasmon C'è dentro Cavolo Qua comunque Vabbè Era uno dei negozi Cioè Tutti i negozi Il tetto A registrare L'ultima parte Di video E anche L'ultima parte Sì Allora qualcosa Lo teniamo qua Di ricordo Che tipo Per sempre Rimarrà In un posto Tipo io metto Qua il fazzoletto Allora Nel video Lo metterò Così mi ricorderò Che poi Ho scelto il fazzoletto E probabilmente Fra tipo Dopo due anni Torneremo E vedremo Se c'è quel fazzoletto O se tipo Ritorniamo qualche attorno Non passiamo mai di qua Servei più che tipo Ritrovarlo Ok c'è Black Che mi ha fatto fare Una cosa brutta Contro il mule Ha detto Tira un pugno Tira un pugno Mi sono sbucciato Adesso voglio ammazzarlo Poi oggi è pazzo Si dimentica Gli zaini Fa cadere Il mio power bank Cosa? Sì A un certo punto È impazzito Si è messo a ballare Come ha fatto? A caso All'inizio Adesso Vabbè Manca l'ultimo piano Abbiamo visitato tutto E Stiamo salendo Sul tetto In teoria questa è la scala Sì Ma dove vai Massi? Cosa? No Eh? Non so se Sì Io sto già ristrando Allora questo è il tetto Non so se c'è qualcuno Però È strafigo Non ci sono le protezioni Tra l'altro Non so se è tutto Non protetto Cosa? Però se vedete Penso lo vediate Là c'è non c'è la protezione Uno va e cade giù Ecco qua sarebbe il posto ideale Per farla blue whale Un locato aperto E' più comodo Non hai le barriere C'è un aereo? Sai che se sali si sfonda? Questo è il tetto Emi C'è la Godzilla C'è la Godzilla Che si vuole a suicidare Questo in teoria è il tetto Lo voleva passare Che figata dentro Vai sì Però fa l'altra Io non c'ho voglia Comunque si muore dal caldo Oggi abbiamo scelto La giornata peggiore Potevamo scegliere un giorno Dove faceva freschino Sì Minchia se hai metto l'immagine Mi scivola ti fa cadere giù Ok allora Questo è il tetto Abbastanza grande Sì è figo Emi vuoi vedere una parte bella del tetto? Allora vieni Aspetta Massi Che Emi non l'ha visto Comunque è poco fa Però non l'ho registrato C'è stata la reazione di Goz Che ha scoperto che Io e Black Siamo già saliti sul tetto una volta Si è incazzato Perché dobbiamo salirci tutti insieme Dove minchia sto andando Vieni Oh questa è una parte figa del tetto Porca madonna C'è una vespa C'è una vespa Dio Dio Dove? Non lo so è qua che gira Muomiti Ce la fai? Sì C'è la poesia tipo qua ci vede Adesso non c'è sgamato nessuno Ma sì Non puoi capire È appena uscito un furgone È appena uscito un furgone Ma non era della polizia Era un furgone Quindi magari abitava qua Però comunque no Non c'è polizia Quindi dopo usciamo qua No no Andiamo Voglio fare un attimo Una ripresa laggiù Ah che sarebbe bello Ma comunque si sta morendo al caldo E questo è uno dei migliori punti dove Vedere Fare foto Poi questo Un po' più rischioso Cioè non c'è proprio La protezione in questo punto Cioè se saliamo Dove essere quelli delle case Che chiamano la polizia Un attimo Qua si vede tutto Ammirate Ammirate lo schifo Guarda Trovinato Là ci sono dei cani Ci abita qualcuno Qua se cadiamo Minchia altissimo Non vi consiglio Minchia A me non vengono le vertigini Ma è altissimo Io mi sdraio Ciao signore Sì Là ci sono due cani È comunque fighissimo Cioè Qua vieni Fai delle foto pazzesche Ma io ho mille cose in salta E Monello Cazzo è vero Allora non farò te Dai Io lo farò Emi te puoi passare se vuoi Adesso ragazzi Stiamo tornando indietro E poi andassi Cioè qua si potrebbe fare un video Qualcuno in real life Alle otto sono a casa Ciao Concludiamo giù Ma mangiamo fuori Non lo so Devo chiedere Adesso non ho chiesto Eh Non so se sta registrando Io sto registrando Dunque qui sotto C'è la sala proiezioni E basta Ora scendiamo Il tetto l'abbiamo visitato È piccolo il tetto Cioè da sopra Sembra piccolo Poi entri dentro È una cosa enorme Cioè che non riesci mai Finire di visitare Qua ci dovrebbero essere Le sani cinema Quindi quando camminiamo sopra Da sotto Da dentro Scusate Non si dovrebbe sentire Perché è tutto isolato Però Se non fosse isolato Si sentirebbero i nostri passi Is the only reason You're holding me tonight Is we're scared to be lonely Is the only reason 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 Is the only reason